Caro Antonio come vedi questa mascherina dice tutto in base a quello che mi hai chiesto per il sito sport chilometro zero, tra l'altro mi si appannano anche gli occhiali, che dobbiamo dire? Intanto non mi ha sorpreso questo lockdown, tutto quello che ci è accaduto perché c'è stata una enorme sottovalutazione del problema dopo che il caso era scoppiato in Cina, tutti hanno banalizzato quindi abbiamo anche delle nostre responsabilità, dicevano che era una semplice banale influenza in realtà non è stato così perché poi la pandemia ha investito tutto il globo e soprattutto è andata a colpire quei paesi che prima di tutto ironizzavano sul fatto che fosse un semplice male di stagione. Naturalmente le misure che sono state prese sono state necessarie, non dico che condivido o non condivido, non credo che questo sia il problema, dovevamo chiudere tutto proprio per cercare di isolare questo virus in attesa che gli scienziati trovino il vaccino, anzi fino a che questo non verrà trovato dovremo condividere con questo problema e la ripresa dovrà essere graduale sotto tutti i profili e quindi dovremo cambiare stile di vita, dovremo cercare di stare più attenti e lavorare anche in maniera differente. Io sono uno dei pochi che ha sempre lavorato anche per ovvi motivi, noi giornalisti dovevamo servire l'informazione to cure 24 ore su 24 ore e devo dire che anche come Teletruria siamo ampiamente soddisfatti dei risultati che abbiamo avuto visto che la gente ha apprezzato il nostro modo ad informare e soprattutto apprezzato il nuovo palinzesto che il direttore Luca Caneschi ha predisposto e che sta dando grandi risultati. Come sarà la ripresa? Questo, ripeto, sta a ognuno di noi fare la propria parte. Non c'è dubbio che però non tutti i mali vengono per nuocere. Perché dico questo? Perché in questa fase abbiamo capito quanti danni abbiamo fatto da 50 anni a questa parte. Il cosiddetto progresso è marciato di pari passo con il regresso. L'uomo ha cercato di violentare la natura in tutto e per tutto e mi riferisco soprattutto non tanto alla nostra quotidianità ma soprattutto al fatto che si sciolgono gli acce dell'antardine, si distruggono le foreste tropicali e soprattutto dobbiamo fare i conti con il cambiamento climatico. Non voglio dire che non sono certo un fan di Greta Thunberg ma indubbiamente le provocazioni che ha fatto questa ragazza ci fanno riflettere e qualcuno potrà dire cosa c'entra con il virus. Secondo me c'entra molto perché il virus è andato a accompagnarsi e a svilupparsi proprio nelle zone dove la natura è stata maggiormente violentata e non c'è dubbio che lo stile di vita che hanno nel sud-est asiatico soprattutto in certe zone della Cina e del Vietnam e del Laos che un tempo ospitò una guerra inutile e ingiusta favorisca sicuramente lo sviluppo di queste problematiche di carattere sanitario. Il mondo è stato impreparato e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Per quanto riguarda gli effetti sullo sport non c'è dubbio che faremo i conti con una durissima realtà soprattutto a livello dilettantistico molte società salteranno perché come giustamente mi ha detto un dirigente di una società ciclistica proprio la scorsa settimana non so come faremo adesso a riorganizzare le corse anche perché personalmente mi vergogno adesso di andare a chiedere i soldi ad un imprenditore visto che prima deve badare a salvare la sua azienda. È tutto grazie della possibilità di questa riflessione a Tela Lidia Sport Km Zero.